Buongiorno a tutti i miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. Sono Lorenzo, un investitore con un orizzonte temporale di lunghissimo periodo. Attraverso il mio canale YouTube vi porto nel mondo degli investimenti con il mio particolare punto di vista. Il punto di vista di una persona che vuole avere un flusso di dividendi crescente nel tempo e quindi vi porterò, come faccio una volta al mese, attraverso l'aggiornamento del mio portafoglio e i nuovi acquisti che mi piacerebbe fare a ottobre perché ormai sono veramente fermo da troppo tempo sotto il punto di vista degli acquisti e abbiamo visto qualche piccolo tentennamento da parte dei mercati qualche piccolo tentennamento che potrebbe nascondere magari qualche nuova opportunità di acquisto. Quindi in questo video vi farò vedere come tengo monitorate le azioni che vorrei acquistare, che vorrei aggiungere in portafoglio o che vorrei incrementare e poi guarderemo anche ovviamente l'attuale asset allocation del mio portafoglio. Spero che questi video di aggiornamento mensile vi piacciono. Fatemelo sapere con un like. Aiuterete anche il canale a crescere ulteriormente, a farlo conoscere di più in giro per YouTube. YouTube, ormai siamo a circa 3.240 iscritti, ottimo risultato, ma puntiamo ai 4.000. Dai, 4.000 non entro la fine dell'anno, non ce la faremo, però 4.000 diciamo per fine gennaio. Quindi se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Come non partire quindi dal mio approfondimento mensile che pubblico ogni mese? È già online dall'inizio del mese, è online da sabato 2 ottobre. Chiedo, penso che lo sappiate, un piccolissimo contributo per lo sforzo fatto. Sono 38 pagine e chiedo unicamente 2,99 euro. Proprio, diciamo, un rientro dal costo dell'impegno che ci metto per farlo. Se volete poi, se vi piacciono i miei approfondimenti, potrete anche decidere eventualmente di fare l'abbonamento. Chiaramente risparmiando, sono già 31 i numeri pubblicati, quindi bellissima storia alle spalle. In questo numero del mio approfondimento parlo dell'endamento dei mercati, breve commento mensile, quindi poi l'elenco delle azioni a maggior dividend yield, sia in Italia che non italiani. Le azioni che staccano dividendo in ottobre, poi parliamo di ETF e come utilizzarli per fare buy and all, che è la mia tecnica preferita, parlerò cos'è l'asset allocation e in questo video vi farò vedere anche l'asset allocation del mio portafoglio, un certificate molto molto interessante e poi chiaramente parliamo anche, e parliamo anche adesso, della mia watch list, ovvero dei titoli che mi piacerebbe inserire o incrementare nel mio portafoglio. Sempre ricordandovi comunque che il mio portafoglio è liberamente consultabile sul blog. Allora, andamento dei mercati in settembre, andamento negativo, ma non troppo, l'abbiamo visto, quindi con un Fuzzimib in calo dell'1,25, per il resto DAX, Eurostox, Standard & Poor's 500, in calo fra un 3 e un 4%, più pesante il Nasdaq con un meno 7%, ma è interessante vedere come dall'inizio dell'anno tutto sommato gli indici siano ancora in positivo, in particolare con un saldo positivo a doppia cifra, con comunque incrementi dall'inizio dell'anno dall'11 al 15%. Ottobre, insomma, tra alti e bassi, possiamo dire che tutto sommato non è andato affatto male, anzi il Fuzzimib nel momento in cui sto facendo questo video è addirittura sopra al valore di fine settembre, quindi possiamo dire che i mercati sono ancora orientati al rialzo, mi permetto di dire, anche perché in tanti lo dicono sul mio canale Telegram, sono in rialzo nonostante alcune notizie, possiamo dire, facciano credere il contrario con titoli roboanti su crolli del mercato che in realtà non abbiamo ancora visto, mi verrebbe da dire. Quindi, mese di settembre, tutto sommato nervoso, bisogna ricordare che però negli ultimi 18 mesi ha corso veramente tantissimo il settore azionario, in particolare quello tecnologico, e cosa dire quindi? Che tutto sommato, insomma, mese ad alta tensione in ottobre, ma, dico bello, c'è che i divinidi continuano ad arrivare, ne ho parlato nel recap fatto qualche giorno fa, settembre ha segnato un re con un flusso di 594 euro netti, per quanto mi riguarda, l'obiettivo dei 6.000 è lì a un passo per il 2021, piccolo incremento anche per gli incassi da vendita di opzioni, 139 euro circa, questo qui è una tipologia di investimento che ho aggiunto a partire da maggio di quest'anno, sto operando gradatamente con nuovi capitali, ma passiamo quindi all'asset allocation attuale, e poi andremo anche a vedere alcune azioni che mi piacerebbe inserire in un portafoglio. Allora, l'asset allocation di settembre 2021 vedeva una liquidità al 25,48, mondo obbligazionario al 17,70, mondo azionario al 43,26, alternativi ovvero certificates e fondopension al 13,56%. Cosa è successo? Questo mese aumento molto importante della liquidità dal 25,48 al 26,7%, quindi un aumento di oltre un punto percentuale, meno 0,20 per il mondo obbligazionario, meno 0,80 per quello azionario, e meno 0,29% per certifiche e fondopensione. Perché questo aumento veramente importante del monetario? Allora, tutto sommato, devo dire che l'azionario ha retto abbastanza bene. Ma andiamo a vedere alcune motivazioni. Aumento significativo della liquidità. Perché? Perché ho investito pochissimo in settembre, ho acquistato un solo certificate con sottostante Enel, ne avevo parlato proprio quando era iniziato il crollo di Enel, io mi ero mosso acquistando un certificate che mi permette comunque di andare a incrementare il flusso di cedole, in particolare questa cedola che viene staccata trimestralmente, ma ho anche avuto la scadenza di un altro certificate, quindi più o meno le due cose si sono compensate. In più ho avuto, avete visto, un forte flusso di dividendi, un pochino di opzioni, non tantissimo, ma un centinaio di euro abbondanti. Sono arrivati, in più, il solito risparmio personale dallo stipendio e, botta bella importante, il recupero IRPEF con la dichiarazione dei redditi. Perché il fondo pensione che sottoscrivo annualmente mi ha permesso di recuperare un migliaio di euro con l'IRPEF, soldi che mi sono arrivati direttamente con la busta paga. E non è affatto male. In realtà questi soldi sono lì, fermi, un pochino li ho utilizzati per incrementare il flusso di operazioni fatte con le opzioni, ma un pochino sono fermi lì, pronti da utilizzare per fare nuovi acquisti, azionari, obbligazionari o certifiche. Vediamo un pochino a seconda delle opportunità di mercato. Sostanzialmente stabili gli altri asset class. Devo dire, in leve flessione, l'azionario, perché i mercati sono scesi, io non sono esente da questa discesa, anche se, devo dire, la mia minore esposizione sul settore tecnologico mi ha permesso di reggere molto bene l'urto, ma devo dire anche che la flessione dell'azionario è stato parzialmente controbilanciato da una favorevole variazione del cambio euro-dollaro. Favorevole, ci tendo a sottolineare, come controvalorizzazione degli attuali investimenti, ma più oneroso, chiaramente, nel caso volessi acquistare. Perché? Chiaramente è meglio acquistare 100 azioni Apple con un cambio di 1,25 piuttosto di comprare 100 azioni Apple a un cambio di 1,15. Va da sé questa cosa. Però il cambio, insomma, fluttua, quindi non bisogna poi darci, secondo me, attenzione più di tanto. Questo è invece l'elenco, diciamo, il grafico che mostra l'andamento del mio patrimonio complessivo. Quindi possiamo vedere come anche a settembre ci sia stato un piccolo aumento, mese dopo mese. È bellissimo vedere questa crescita. Il grafico parte dal 2013, siamo in 2021, sono passati otto anni. Direi che il mio piano di investimento, tutto sommato, sta funzionando bene. Chiaramente non mancano i momenti negativi, lo possiamo vedere. Qui ingrandiamo una piccola flessione ottobre-dicembre 2018, una flessione molto più ampia. La vediamo qua. Marzo dell'anno scorso, pieno periodo Covid. Un pochino dopo, lo vediamo poco di seguito, era ottobre dell'anno scorso. Anche in quel caso il mercato aveva stornato non tanto pesantemente, ma un pochino aveva stornato. Ma poi si è ripartiti in nuovo a razzo. Direi che vedere il grafico allargato dà comunque un senso di soddisfazione, almeno per quanto mi riguarda. I mercati, quindi abbiamo detto, hanno iniziato a mostrare nuovamente stanchezza e segni di debolezza. Ogni tanto scendono, ogni tanto salgono, però un po' di nervosismo c'è. Quindi, momento di fare nuovi acquisti? Allora, l'importante, secondo me, è avere un programma. E io il mio programma lo faccio tenendo un foglio Excel, un foglio Excel che è poi la mia watch list. La potete vedere nell'approfondimento proprio che potete, se volete, scaricare. Tra l'altro c'è anche il link nella descrizione a ogni video. Ci sarà anche poi la password per accedere direttamente al foglio Excel aggiornato sostanzialmente in automatico, con 20 minuti di ritardo, perché ho creato un foglio Google con Google Finance che permette l'aggiornamento automatico delle quotazioni e di tantissimi altri dati. Oltre a questo poi ci sono i REITs, gli ETF e vedere tanti dati aggiuntivi. Io faccio vedere quattro di quelle azioni che ho in portafoglio o mi piacerebbe avere. Allora, vi faccio vedere tanto per dire come baso le mie scelte. Poi chiaramente ognuno può calibrarle in base alle proprie necessità. Allianz, al momento in cui ho preparato il video, quotava a 195,06, il dividendo 9,60 euro, divide il attuale 4,92%. Mi piacerebbe valutare un acquisto di Allianz nel caso scendesse sotto i 192 euro. Ormai ci siamo quasi. Con una quotazione di 192 euro, Allianz avrebbe un dividend yield del 5%, ovviamente con la doppia tassazione. Attualmente ha un rapporto prezzo utile di 9,41, quindi un valore sicuramente degno di nota. acquistato a un prezzo di 192, presenterebbe un P ancora più basso di 9,26 e il payout, ovvero il rapporto tra utile distribuito sotto forma di dividendo, in questo caso 9,60, e utile per azione l'EPS, in questo caso 20,73, è soltanto del 46%. Quindi semaforini verdi per quanto riguarda Allianz. semaforini verdi chiaramente che mi fanno subito venire voglia di cliccare il tasto Buy, ma bisogna comunque avere pazienza, tanta pazienza. Ancora, abbiamo IBM in questa lista, abbiamo Verizon, entrambi comunque già nel mio portafoglio, e Verizon è vicino a un prezzo che mi interesserebbe per incrementare ulteriormente la quota nel mio portafoglio. Abbiamo anche AbbV, che però ha tanti semaforini rossi, il che, diciamo, così come IBM, mi fanno propendere per un'attesa verso l'incremento di queste azioni. Ovviamente non ci sono solo queste quattro nella mia watchlist, ma ce n'è una sfilza molto lunga, perché bisogna, diciamo, sempre restare sul pezzo. Allora, direi che abbiamo visto tantissime cose in questo video, spero che il repilogo vi sia piaciuto. Ditemi se alcune di queste quattro azioni sono anche nella watchlist vostra, oppure se sono già nel vostro portafoglio. Ditemi magari anche se avete altre azioni che sono lì per essere acquistate con un prezzo interessante. Nei possiamo parlare nei commenti a questo video YouTube o, se volete, come sempre, mi trovate anche sugli altri canali social. Anche per oggi abbiamo finito. Un saluto a tutti da Lorenzo. A presto e ciao!